Francesca, da grande ti sposerò e saremo moltissimo felici. Grazie, io vorrei che tu scrivessi il tema. Sapete cosa fa tutte le notti? La piscia a letto. Piscia a letto! Ma mamma, a me la zuppa inglese non mi piace. Non ne posso più. Devi diventare grande. Esprimi il desiderio, dai. Tutti insieme. Stiamo diventati grandi! Tutti sei cresciuta e bene pure. Tu hai il pizzo come mio padre? Vestiamoci e scappiamoci, dai. Non possono essere scomparsi. Ma come è diventato tutto così piccolo? Infatti il pavimento è così lontano. Ragazzi, è diventato un tonno. Ma dove sono finiti sti cavolo di ragazzini? Stanno sempre insieme, sono tre maschietti e una femminuccia, un po' cicciottella. Non sono io. Purtroppo a questo punto siamo certi che si tratti di un rapimento. Ma perché li hanno rapiti questi bambini? Come chiedere riscatto per bambini rapiti? Non capisco. Riformulare la domanda. Servo, che suona l'allarme! Ma dove va? Siamo venuti per l'annuncio della camera in affitto. Voi siete signori? Da oggi siamo signori, sì. Marco voleva sapere se ti vuoi mettere con lui. Venite fuori con le mani alzate. Rischiamo di andare in prigione per il rapimento di noi stessi. Questa storia dei baci che mi vuole sempre dare, che ci mette pure la lingua. Questa storia dei baci che mi vuole sempre dare, che ci mette pure la lingua. Grazie a tutti.